Io vi ho fatto, io ho preso il bloccato, mando una presatura, poi vado a orientarlo, no, prima, si mantenga, ok, lui lo orienta, poi vado a preso tutto il bloccato, e lui così l'ha bloccato, in modo che posso aprire e stringere eventualmente, blocco, però mi richiede sempre, per lui, per far fare, ma c'è il mandrino, c'è il numero di più, lo vediamo in tensione, lui, lo scuola tutto il calcio, mi rinco a preso tutto il calcio, poi c'è la ritme, poi si in ponte, poi si in ponte, si in ponte, si in ponte, e lui, non la buca, si sceglie un simbolo di un bulino sull'inserto probabilmente sarà quello, credo, non è un caso questo qua c'è un segno di un bulino non è vero, non è vero, non è vero vabbè, lascia aperto, vai uscire la chiave, uscire la chiave, uscire la chiave, uscire la chiave prendi la chiave, prendi la chiave diamanti la chiave 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 Grazie. 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 Questa qua comunque è da... Quando arriva l'attattatore più lungo, è da riprendere. Ah. Bisogna incertare di nuovo. Continui giù a fare questo? Sì, certo. Adesso mi sono rossi. Perché ci fanno andare un pochino nella parte lì. E poi ti ha accertato. Forse un pochino qua. Forse un pochino qua. Forse un pochino qua. Un pochino qua. Altra cosa è più utile. È più utile. È ilrenore. Di nuovo... e va avanti con la zetta nel momento in cui fa il segnale si può tornare indietro ma se io non puoi fare questo posso fare prima questo e poi questo qua tiri dentro il braccio e poi ti sposti in rapido prima devo fare misura off utente e poi questo e poi mi sposto con lo z e poi mi sposti con gli assi cioè con la urma io con la urma faccio così vedi che non va avanti quindi con la urma posso andare solo indietro può solo andare lì può solo andare la casa fa solo l'allontanamento la urma va per forza ridata vedi che non va giù perché non è il manuale non è rapido non è questo qua non è questo non è questo questo invece fa le scende fa le scende e poi spaccare tutto invece con la urma lui va solo in direzioni su e basta ok come si domanda come prima anche prima andava su si la urma mi porta gli assi macchina a zero macchina lo zero macchina fai conto che è questo qua è lì guarda questo qua si ok ah quindi come in un bacco va di cioè non posso andare avanti senza se lo tessi da troncare non lo presenterei perché è forno si mi mando i manicotti quando verrai la prossima settimana cioè dopo il 6 tra due settimane facciamo il resto io però io dopo il 6 dobbiamo provare anche assolutamente i pezzi cioè quando sono in ditta faccio anche il conto di quello che mi manca magari tocchiamo io il pilato se mi manca qualche teso se si sei sicuro e ecco che mi dava